arrivo ma chi me l'ha fatto fare a salire su questi sci ho tanta paura sto andando sempre più veloce in questa valle sconosciuta non c'è anima viva forse quel signore laggiù signore signore dunque stavo sognando in realtà in questo momento sono sulle scale mobili che sto andando verso l'uscita sì ma qua l'uscita no eccomi di nuovo sull'isci allora non era un sogno sono uscito dalle scale mobili mi sono trovato di nuovo su questa pista sempre più veloce sempre più strano tutto questo ma qual è il sogno allora qual è la realtà e no 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 non ci sto adesso sono nuovo sulle scale mobili come prima e prima ero su di sci e poi sulle scale mobili e poi di nuovo no 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 non ci sto a non è possibile non è possibile no no non è possibile adesso qualcuno mi deve spiegare quale sia il sogno e quale sia la realtà se la realtà è questa dannata pista da sci o quelle stramaledette scale mobili